Bello a tutti ragazzi, sono Agisius Io sono Alex E riprendiamo con Crescistri Allora, se non qua non ho ancora mollato il menù di pausa Perché se lo faccio mi ammazzano tutti Sì E qua c'è una torretta Una torretta molto beautiful Direi Ragazzi dobbiamo fare... Credo che non puoi passare attraverso i muri Non è comparsa quel tizio Ma... Come è morto? È caduto... Per me non c'è quasi una buccia di banana Ma davvero? Guarda dov'è È caduto da solo Ma non si può Dove devo andare? Ma non lo so Ma no, ma lì c'è una cosa Devi aggirarlo quel palazzo lì Ah, proprio Per me Perché è un palazzo Guardalo, ma guardalo Guardalo Ammazzalo Muori Aia Non l'hai buttato, eh Lo so, lo so Però voglio vedere se mi chiamava Cosa vuol dire? Cosa? Cristo santo, perché? Eh, perché Cristo è santo Eh, saranno cavoli suoi Perché? Perché? Dove stai andando? Eh, non lo so neanch'io Lo so Se contro una rete devi attraversare la macchina Ok, vai, corri, corri Non ci sono un tramino Corri Mi trovo la corazza Nei che non ci salire Non ci salire Non ci salire Non ci salire Al contrario Devo salire da qualche parte? Sì, dovevi salire Sì, voi naturalmente Non aiutatemi Nessun indizio Qua sul balcone Deve andarvi Com'è? Oh, c'è una scala da qua No Troppo complicato Mettere una scala, vero? Sai cosa che salte sui balconi? Lo scendo Ali Semplicemente E se io non fossi un superumano? 22 Si sta allontanando Mi troverai? Era dentro È dentro la casa 15 Dov'è? 9 10 Per me è dentro la casa È al piano superiore Sì Soperta questa intrigante novità Soperta Aiuto 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 Ma che spari? Ma che spari? Boh Ah, forse lui c'è Oddio La spalla Però ne so Che è la direzione giusta Ho trovato la direzione giusta Per lo meno Sì No, voglio dirlo L'attraverso C'è Ok Ok Vuoi giocare Non scondino Con la Marte Mi suoi Entra 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 Ah, qua ne ammazziamo E vi c'è che la storia Naturalmente No, ero di trovo L'altro Così Volano Cazzo Ma come? What? Oh 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 Sardo Fermatelo What? Cioè ti fa imbazzare da un minchione Ma gli ho sparato una freccia Eh, l'ho presa Tipo Eh, boh L'ho presa Che trovo Eh, appunto C'è una torrenta No, c'è la funicolare Vai, vai, usala, usala Usala A telefonica Equipo Telefoni L'inigeo È questa Ma mio Dio Guardi 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 C'è ragazzi Ha perso un bordello di tempo per lì E adesso dove lì Oddio perfetto no aspetta no non voglio tenere lì a mandarti dritti no in frigo mi sapevo no, no in frigo non voglio dritti iiii che mi sta scutendo oddio cosa sta giocando ah no mi sembrava un del oh cos'è quella cosa lì in parte che è un segnale di morte è una mina però è giù ah è giù sembrava che ce l'avessi in parte segnale di morte pericolo morte pericolo qua cado non lo so però devi cadere qua cado è male non hai scondato tutto il tutto e poi ma che cavolo ok dove sono where i where i ah ok riuscire oi 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 siamo sicuri che è stabile no per niente cos'è sta ah la cucina per te oh amico ti ritrovo oh ciao muore ah allora non hai più colpe non hai più colpi ah non ce n'è ancora ancora quanti piani ha questa perché sei ancora attaccato a un muro ah non è ancora salta bello qua ci sono delle piante piante la casa che crolla naturalmente perché è bombardata oh forse 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 cos'è cioè c'hai dei muri davanti un tavolo da biliardo no un tavolo da biliardo aspetta ciao no adesso adesso giochiamo a biliardo faccio la cos'è questa la cinque wow è nirale questa voglio la sei si muove da sole la sei in buca pronto pronto se gli davi un pugno no non usare quello dagli pugno non si muovono non si muovono aspetta no non sparare con quello voglio la moto in buca what the fuck non esplode dovrebbe bomba ciao bomba magari diventati contro bomba non esplodi bomba non esplodi bomba non esplodi ti do un pugno ti do un pugno ti do un pugno bomba ti do un pugno bomba guardate non esplode eh perchè oh l'ho lanciata ok vabbè ma siamo oltre bene vada prima voglio parlare cos'è quella cosa lì che c'è un po' bomba ciao perfetto stai spregandomi c'è di un'arma si desce oh è delle punizioni siiii cosa sta facendo stanno distruggendo tutto oddio cos'è quella roba oddio cos'è quella roba oddio cos'è quella merda perfetto ma che merda è fucile a pompa riprendi le ltg e dov'era è lì per terra scambio scambio l'altro con fucile oh 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 belli dove cazzo sono? non lo so io rientro nel tavolo da miliardo dov'è non è che magari ti sanno vabbè aspetta una non mi beccate qua se non è nella sala da miliardo tu amico mi credi vero? ehm per oggi ci faremo qua c'era tu se il video vi è piaciuto lasciate un commento se mi piace scrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video bella ragazzi no non era per niente quello che intendevo allora cosa? ahhh cosa stanno facendo? che cosa stai facendo? cosa succede? ma 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 mara 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 come si traduce mara 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 vabbè mara 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 ehhh what? what? ah cosa sono quelli?